Domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15 si vota per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale concernente modifica gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari. Chi vota sì esprime la volontà di approvare la legge di modifica della Costituzione. Chi vota no esprime la volontà di respingere la legge di modifica della Costituzione. L'elettore dovrà presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera, la smarrita oppure ha esaurito gli spazi disponibili può richiederla all'ufficio elettorale del comune di residenza. L'elettore inoltre all'interno del seggio dovrà attenersi a tutte le misure di sicurezza previste per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Tutte le informazioni sul referendum e sulle altre consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre sono disponibili su interno.gov.it, rai.it e sulle pagine di televideo.